ciao a tutti ragazzi e ragazzi eccoci tornati in questo nuovo video bene oggi è un video all davvero grande perché penso che sia anche la prima volta che da primark veramente abbiamo comprato praticamente tutta la collezione di hello kitty ho preso giusto due o tre robe ma per il resto ho preso tutto partiamo dunque da pigiama di minecraft magna così bella perché tutta comunque tematizzata quindi ci sta per l'estate pigiama già vestivo con la collezione di hello kitty solo lei coi prodotti che abbiamo preso quindi se volete proprio saperlo abbiamo speso 94 euro solo per la collezione di hello kitty totalmente sarebbe costata anche di più perché c'erano anche le lenzuola quindi supereremo penso arriveremo intorno di 150 euro se dovreste comprare tutta la collezione partiamo con cover cover per iphone 14 pro max che appunto quello di chiara ragazzi è gigante io adesso ho questa sembra che ti sta in una mano con maglia team oltretutto lei io adesso questa della ferragni che terrò per un po perché mi è arrivata ieri questa qui l'ho presa da vinte e poi appunto quando vorrò cambiare metterò questa ma ragazzi veramente aspettate che l'apro così vediamo allora ragazzi giusto prima che dimostrarvi la cover vi ricordo che il video precedente all'uscita quello è uscito oggi potete vedere la collezione di primark appunto di hello kitty e di altre cose che ci sono ovviamente da primark trovate un po di tutto quindi andate a dare un'occhiata al video allora cioè ho detto il primark comunque è già grande cioè adesso vi faccio una prova giusto ve lo appoggio e poi la faccia fuoriesce quindi è gigante andiamo avanti con pennelli da trucco allora questi erano cioè sono state indecisi a fare l'ultimo perché io in realtà ho i pennelli della zoeva che sono quelli proprio top però ragazzi come potevo cioè guardate da voi c'è la custodia con hello kitty con il cursore con la capocetella dell'ho kitty ovviamente questi prodotti sono tutti della savio aiuto quindi immagino che siano importati dal giappone è tipo penso sia tipo una collaborazione che hanno fatto sì sì certo come fra le tante che fanno aspettando e perché allora si apre così e dentro appunto ci sono due pennelli viso no tre pennelli viso e due pennelli occhi proprio quel set da viaggio praticamente a proposito di viaggi ragazzi sappiate che a giugno andremo finalmente al nostro primo viaggio e viaggio anche di nozze ve l'anticipate sandra andremo a barcellona e quindi verrete con noi ovviamente vi mostreremo un po' la città i tour che faremo cioè ragazzi io aspetto questo viaggio la bellezza di 13 anni e finalmente è arrivato quel momento peraltro lo faremo anche dal 9 al 12 giugno e l'11 giugno è il mio compleanno in più anniversario di matrimonio che quindi passeremo a barcellona il video ovviamente lo vedrete quando torneremo in Italia ovviamente ma non è il momento di parlare di barcellona ma è il momento di andare avanti con il video però questa è una bella chicca ragazzi sarà anche il primo video all'estero che vi portiamo in realtà cosa che io ricordi circa 6-7 anni fa quando ero morti in Francia era forse uno dei primissimi video del canale appena aperto all della Francia me lo ricordo te lo ricordi? no che memoria del cavolo che c'ha ecco la spazzola di Hello Kitty bellina però secondo me quel bianco se non la tieni un po' pulita conoscendoti si sporcherà un pochettino perché la parte dietro devi tenerla pulita perché se no si sporca ogni toto devi pulirla ok è stanca ma questa l'ha fatta proprio grossa capiamo tutti dalla scatola girata che cosa c'è all'interno vero? allora questo è un c'è scritto olio per labbra quindi un lip oil tipo cos'è? lip oil? è olio per le labbra siccome io soffro scusate non so mi salito e Alessandro dice cose senza senso questo vi diceva un olio almeno c'è scritto così esatto e ragazzi io soffro di labbra screpolate tantissimo sia in inverno in inverno tantissimo ed estate un po' meno ma ci soffro quindi diciamo che un olio mi potrebbe essere utile perché almeno morbidisce un po' le labbra questo contenitore per il mobile del pianale del lavabo in appunto per mettere in ordine un po' i prodotti perché in bagno c'è un macello di suoi prodotti adesso ti prendi un bel contenitore che fai un po' di ordine preme e tutto il resto ho preso due beauty blender della appunto sempre Dello Kitty una è bianca e una è rosa queste servono per fondotinta correttore sembrano dei uovi da gallina ho preso tornerò tornerò la fascetta è la fascè è la fascè non mi fai parlare è la fascetta mi dicevo è fascetta elettricista per fare skin care è per fare sci di solito queste le uso quando dopo la doccia mi faccio le mie maschere creme tutto il resto arlecchino pulcinella e mi serve per tirare indietro i capelli ne ho un'altra di questa ma siccome mi chiamava prendimi aspetta dietro c'è scritto il suo numero di telefono chiamali come al solito ragazzi sapete benissimo che anche per me se io guardo i video i video non sono divertenti mi rompo il problema è mortale devo bere scatole a me perché devo finire di parlare ma non mi finisce mai a farmi fare vabbè questa sta fusa veramente è arrivata è crollata proprio nel burrone non finisce mai di farmi fare le frasi andiamo avanti ma che qui calzini sono tre paia due bianchi e uno rosa poi l'ho preso il cordino questo qua da attaccare al telefono quindi di solito si attacca o sopra o sotto vabbè non senso per me però e poi donne un specchietto no lo metto sulla macchina lo specchietto aspetta questo è uno specchietto veramente enorme e di solito gli specchietti sono tipo tondi invece questo sembra tipo un telefono infatti che un telefono si quei telefoni cacchio c'è lo specchietto c'è la batteria non lo so tra l'altro qua suoniamo la batteria agganciare un cordino per attaccarlo oh ragazzi ne succede una più del diavolo io lo faccio apposta ma poi da fuori arrivano le morte i clac sono le trombe farò finirlo attaccare un cordino comunque sembra un telefono quei telefoni di una volta sapete con l'antennina tipo i cordless quello lì tipo infatti poi si apre se riesco ad aprirlo e poi ovviamente lo faccio vedere da qua se non vi accendo comunque è fatto così e sembra proprio i telefoni quelli di una volta c'erano in occhio una volta andavano appena sui telefoni quelli lì non so se sia la parte ci sia la parte ingrandente o la parte normale non lo so e ora di aprirlo ci vuole aiuto quello lì mani di forbice lì come si chiama tra l'altro qui c'è scritto Edward scusa se si legge c'è scritto hey cutie no sì allora questa parte ingrandente e questa parte normale ovviamente io non ci ho capito assolutamente niente sono due cose che non saranno all'occhio allora una è questa di allocchio che sarebbe quello per attaccare di attaccare sulla valigia dove appunto poi qua ci si scrivono i dati esatto dato che dobbiamo partire e prendere l'aereo per la prima volta se anche voi avete preso l'aereo fateci sapere sotto nei commenti com'è perché sono curioso di saperlo se avete avuto mal di mare o cose del genere invece questi di Stitch sono uno per lui e uno per Alessandro dato che non c'erano non ce n'erano altri ma va bene così tanto per l'utilizzo che bisogna farne tra l'altro se siete bravi noi vi mostriamo anche i prezzi dei prodotti se stoppati al punto vedete i prezzi quelli di prima questi qua di aereo costavano 3 euro quindi date all'occhio così sapete già quanto più o meno potete spendere anche se la collezione dell'occhi ti ve l'ho letto quanto vogliono spesso poi ho preso questo che è un astuccio in realtà per la scuola dove all'interno ci sono appunto roba di cancelleria cioè ci sono due matite una gomma un righello in tempera matite e ovviamente non verranno mai utilizzati e io però utilizzerò nel caso questa come pochettina da portarmi in borsa oppure tipo quando viaggia appunto andando a Barcellona magari ci mettono dentro i pennelli ci mettono non lo so qualcosa ok vuole diventare come Gaudì mica dobbiamo andare a vedere i parchi di Gaudì a Barcellona si bravo spoiler a tutti non spoileriamo poi ho preso questa che è tipo una spazzolina morbida per massaggiare la cute è praticamente quando almeno perlomeno io lo utilizzerò in questo modo quando farò lo shampoo massaggerò un po' la testa dato che comunque massaggi io ne sono da una vita per cui massaggerò la testa poi ho preso ovviamente la cover delle mie cuffiette le Airpods Pro 3 non ne avevi le altre? eh? tu ne avevi preso una volta avevi preso un altro tipo di qualcun altro personaggio di Nuna di Sailor Moon ah quindi Hello Kitty e Sailor Moon che sono i suoi due anime preferiti e quindi vai Hello Kitty non è un anime ultime due cose allora la prima sono allora vai a Barcellona Barcellona c'è il mare farà caldo non ti vuoi portare una ciabatta o comunque se si va al mare o comunque anche in casa d'estate non ti prendi una ciabatta è ovvio che te la prendi e quindi Hello Kitty sta fuori fuori completa questo qua che sarebbe questo utile porta computer perché anzi guardate ragazzi perché questo qua del Milan che cio cia cia cio cio cian sierry è rotto buttiamo via e facciamo il cambio all'interno è fatto così dentro è praticamente sente di spugna ovviamente per proteggere le computer spero che il nostro computer ci entri perché di solito vengono prodotti per i mac perché il macbook è più piccolo rispetto al nostro perché l'abbiamo visto speriamo che un giorno riusciremo a prenderlo vedremo insomma io spero di sì che ci entri nel caso in cui che ne so partiamo andiamo dai miei ci dobbiamo portare il computer insomma è già finita fine del video ragazzi questi erano tutti i prodotti presi per la collezione di hello kitty praticamente quasi tutto allora presenti non abbiamo preso i block notes che erano fatti non c'è bisogno di non c'è bisogno che lo dici tu c'è il video precedente lo andate a vedere punte basta quindi ragazzi vi abbiamo già spoilerato anche troppo dei video futuri e quindi basta anche già quella e tanta roba ragazzi quindi ci vediamo al prossimo video che sarà ve lo dico già uscirà il giorno dopo questo all gamestop mac e quindi tanta roba